Nella loro comunione mentale Che cosa succede ai soggetti che sotto ipnosi si mettono in contatto con le loro vite precedenti? Commento Spesso pescano nella loro comunione mentale brani di vite che non sono state le loro ma di altri. Infatti la comunione mentale unisce nel piano mentale entità che hanno un grado di evoluzione affine.